quel giorno alle quattro come tutti gli altri giorni alexandre condusse davanti alla porta della casetta dei marambal la carrozzella a tre ruote in cui conduceva a spasso la sua vecchia invalida padrona sino alle sei per ordine del medico sistemato il leggero veicolo contro il gradino proprio nel punto da cui poteva farci salire più agevolmente la grossa signora egli entrò nella casa subito si udì all'interno una voce furiosa una voce arrocchita da ex militare che vomitava bestemmie era quella del padrone ex capitano di fanteria a riposo joseph marambal poi sudì un fracasso di porte sbattute violentemente di sedie rovesciate e passi agitati infine più niente e pochi minuti dopo alexandre ricomparve sulla soglia sorreggendo con tutte le sue forze la signora marambal sfinita dalla discesa delle scale quando lei fu sistemata non senza fatica nella carrozzella alexandre prese la maniglia che serviva a spingere il veicolo e lo avviò verso la riva del fiume attraversavano così ogni giorno la loro cittadina fra saluti piani di rispetto che erano forse rivolti tanto al domestico quanto alla padrona perché se lei era ben voluta e rispettata da tutti lui quel vecchio veterano dalla barba bianca e patriarcale aveva fama ad essere il modello dei servitori il sole di luglio picchiava sodo sulla via annegando le case basse sotto la sua luce che per essere troppo cruda pareva triste alcuni cani dormivano sopra il marciapiede lungo la linea d'ombra rasente ai muri e alexandre ansimando accelerava il passo per arrivare più presto al viale che porta al fiume la signora marambal già sonnecchiava sotto l'ombrellino bianco e la punta di questo andava qualche volta appoggiandosi contro il domestico impassibile appena ebbero raggiunto il viale dei tigli lei si svegliò sotto l'ombra di quegli alberi e disse con voce affabile camminate più ad agio amico mio con questo caldo rischiate d'ammazzarvi nel suo ingenuo egoismo la brava signora non pensava affatto che se adesso lei desiderava ad andare meno in fretta era perché era arrivata al riparo di quel fogliame vicino alla strada dei vecchi tigli tagliati a volta la navetta scorreva nel suo letto tortuoso fra due fila di salici i glu glu dei mulinelli le cascate della roccia i rapidi ritorni della corrente diffondevano lungo tutta la passeggiata una dolce canzone di acque e un bel freschetto di aria appena umida respirato e assaporato il fascino del luogo la signora marambal sussurrò ecco mi sento meglio ma si era svegliata di cattivo umore oggi alexandre le rispose proprio così signora alexandre era al servizio dei marambal da 35 anni da prima come attendente dell'ufficiale poi come semplice domestico che non ha voluto lasciare la famiglia dei padroni e da sei anni ogni pomeriggio portava a spasso la signora per i viali di cinta della cittadina da questo lungo servizio devoto da questa quotidiana intimità tra la vecchia signora e il servitore sarà creata una sorta di affettuosa familiarità in lei venata da deferenza in lui parlavano delle faccende di casa da pari a pari il loro argomento principale di conversazione e di preoccupazione era d'altra parte il caratteraccio dell'ex capitano inasprito da una lunga carriera cominciata brillantemente trascorsa poi senza promozioni e terminata senza gloria la signora marambal riprese il discorso per essersi alzato male se proprio alzato male e da quando ha lasciato il servizio gli succede sempre più spesso e alexandre con un sospiro terminò il pensiero della padrona signora dite pure che gli succede tutti i giorni e gli capitava anche prima di lasciare l'esercito è vero riconosciamo però che non ha avuto davvero fortuna ha cominciato con un atto eroico che gli ha procurato una decorazione a vent'anni e poi dai venti ai cinquanta non è riuscito a salire più su del gradino di capitano quando all'inizio sperava di arrivare almeno a quello di colonnello nell'epoca della pensione la signora potrebbe anche dire che è stata colpa sua se non fosse stato sempre dolce come una frusta si sarebbe fatto stimare dai superiori e proteggere essere duri non serve a niente per essere ben visti è meglio cercare di rimanere simpatici alla gente che tratti così noi è per colpa nostra dal momento che ci fa piacere rimanere con lui ma per gli estranei è una cosa diversa la signora marambal rifletteva da anni e anni lei pensava tutti i giorni alle brutalità di suo marito che lei aveva sposato tanti anni prima perché era un bello ufficiale giovanissimo e decorato pieno di speranze come ci si inganna nella vita murmurò adesso fermiamoci un po mio povero alexandre andate a riposarvi sulla vostra panchina era una panchina di legno mezzo marcio messa lì alla svolta del viale per la gente che di domenica faceva una passeggiata ogni volta che venivano a quel viale di tigli alexandre riprendeva fiato per qualche minuto sedendosi lì si sedette e prese tra le mani con un gesto abituale pieno d'orgoglio la sua bella barba bianca aperta a ventaglio se la strinsa e poi la fece scorrere chiudendo le dita sino alla punta che trattenne per qualche attimo all'altezza dello stomaco quasi volesse fissarla a misurare ancora una volta la lunghezza di quella vegetazione di peli la signora marambal seguitò a parlare io l'ho sposato è giusto è naturale che supporti le sue ingiustizie ma quello che non capisco è che l'abbiate sopportato anche voi caro alexandre lui scrollò un po le spalle e si limitò a dire per me signora lei seguitò io ci ho pensato spesso eravate il suo attendente quando l'ho sposata dovevate quindi sopportarlo per forza ma dopo per quale motivo siete sempre rimasto con noi che vi paghiamo così poco e vi trattiamo così male mentre avreste potuto fare come tanti altri sistemarvi sposarvi avere dei figli una famiglia lui ripetè o per me signora è diverso tacque ma seguitò a tirarsi la barba come se tirasse una campana che gli risonasse dentro e volesse strapparla intanto girava intorno a sé lo sguardo sgomento come un uomo soffocato dall'imbarazzo la signora marambal continuava a riflettere non siete un contadino avete avuto un'educazione alexander la interruppe con orgoglio ho il diploma di geometra agrimensore signora e allora perché siete rimasto con noi sacrificandoci tutta la vita lui sussurrò appena è così è andata così colpa del mio carattere come il vostro carattere sì quando mi affeziono mi affeziono per sempre lei si mise a ridere andiamo non mi farete credere che le buone maniere la dolcezza dei marambal vi hanno legato a lui per la vita alexander non riusciva a star fermo sulla panchina era chiaro che aveva perso la testa borbottò a mezza voce tra i lunghi peli dei baffi mica per lui per voi la vecchia signora che aveva un dolcissimo coronato tra la fronte il capellino da una schiera di riccioli candidi acconciati ogni giorno con molta cura e lucidi come le piume di un cigno fece un movimento nella sua carrozzella e guardò il domestico con occhi pieni di sorpresa per me povero alexander ma come lui si mise a guardare per aria poi da una parte poi lontano torcendo il capo come fanno i timidi quando sono costretti a confessare un segreto bruciante infine dichiarò col cieco coraggio di un soldato a cui si è ordinato di slanciarsi all'assalto è così la prima volta che ho portato alla signora una lettera del tenente e lei mi ha dato venti soldi sorridendomi io decisi così non riuscendo a capire bene lei insistette via spiegatevi meglio allora con l'alia spaventata ad un criminale che confessa un delitto e si sente perduto ho avuto un sentimento per voi signora ecco tutto lei non disse niente smise di osservarlo abbassò il capo per riflettere era buona piena di rettitudine di dolcezza e di ragionevole sensibilità pensò in un attimo all'immensa devozione di quel povero essere umano che aveva rinunciato a tutto pur di viverle vicino senza dire mai una parola e venne voglia di piangere poi seria ma non offesa disse torniamo a casa lui si alzò venne dietro la carrozza e riprese a spingerla mentre si avvicinavano alle prime case videro in mezzo alla via il capitano marambal che veniva verso di loro quando fu vicino si rivolse alla moglie con la chiara intenzione di attaccarlite che abbiamo da pranzo pollolesso e fagiolini marambal andò su tutte le furie ancora pollo sempre pollo cristo sono stufo io del tuo pollo o vuoi farmi mangiare tutti i giorni la stessa cosa lei rispose rassegnata caro sai benissimo quel che ti ha prescritto il medico è quel che ci vuole per il tuo stomaco altrimenti ti farei mangiare molte cose che non posso prepararti allora il capitano si piantò esasperato a fissare alexander è colpa tua animale se soffro di stomaco sono 35 anni che mi avveleni con la tua sporca cucina all'improvviso la signora marambal voltò la testa per guardare il vecchio domestico i loro occhi si incrociarono e in un solo sguardo si dissero grazie